Sul Monte Nerone, nell'entroterra della provincia di Pesaro e Urbino, si svolge anche quest'anno il Teatro Libero del Monte Nerone. Il Teatro Libero è, come ha spiegato il suo ideatore e organizzatore, il musicista Mario Mariani, un luogo in cui si danno convegno gli spiriti liberi. Anche questa edizione prevede performance, concerti, meditazioni, momenti di teatro e poesia e momenti conviviali con la cena vegetariana condivisa. Infatti i partecipanti agli eventi sono invitiati a portare del cibo vegetariano da condividere con gli altri. L'ingresso agli eventi è gratuito. Tra il pubblico anche Davide Rossi della provincia, che ha elogiato e apprezzato particolarmente l'iniziativa di Mariani, ritenendola un valido esempio del fare cultura, come arricchimento interiore. Questa terza edizione, che va dal primo all'11 agosto, è stata aperta da Danze per la celebrazione del raccolto, guidate da Daniela Castelli. E' da una semina iniziata da Loretta Stella, l'eremita del Monte Nerone. La serata è proseguita poi con la proiezione del film Erba Stella e la musica di Mario Mariani, Giovanni, Francesco ed Elia Scaramuzzino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.